Ma non è mai stato un uomo coraggioso, no, ma pure con la moglie, è stato sempre troppo buono. E quella al momento opportuno l'ha lasciata e se n'è andata. E ora è rimasta senza soldi e a culo per terra. Oh, scusate l'espressione. Allora io e mio marito abbiamo detto perché non rimani con lui. Tanto sei solo, la casa è grande. Ah, eccolo! Ah, tu sei venuto? Questo signore è due ore che ti aspetta. Ah. Ecco mio nipote. Beh, io vi lascio soli, eh? No, perché ce l'hai lasci soli? Eh, perché Renato non dorme senza venire. Sì, anch'io, ciao. No, no, ma che fai? Eh, che fai? No, 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 stiamo insieme. Buonasera. Arturo, ma levasse, Manu. Tira fuori la valigetta. Tira fuori la valigetta. Tira fuori tutto. I sordi, tu stanno. Ci stanno, i sordi, tu stanno. Ci stanno, ci stanno, signor. Ti stanno, ti stanno. Mi fai i sordi, eh? Io ti spacco la testa, signor. No, signore. No, signore. No, signore. No, signore. Ti devi chiesto. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Non mi piace. Non è morto, no? Se è morto, penseranno che siamo stati noi. Tante le fa. Sì, non sto mai imparando. Che puro. Ma che fai? Non si sente niente. Ma stiamo a fare la stessa cosa. Veramente? Io sto ascoltando il respiro. Il cuore, il cuore lo senti? No. Manco io. Ma che cazzo fai? Sono persone sensibili, hanno il richiamo del cellulare. Curo, dai. Aspetta un'idea. No, la sfissi così. Respira! No, respira, non è morto. Lo dobbiamo portare all'ospedale. Come? Lo carichiamo in macchina e lo lasciamo lì davanti. Sì, e se fuori c'è qualche complice? Chiore sono? Chiore sono adesso? Ce l'hai tu l'orologio? Sono le 11.20, sì. 11.20? Allora, noi tra dieci minuti dobbiamo uscire da questa casa. Se ci abbiamo cura è fredda. Vai in cucina e fai a prendere la sedia da rotella e lezione. E partimi, cosa hai in mente? Alle 11.30 passa il canno da arte insurbana. Quello ci copre fino alla macchina tua. Antifurto. No, no, questo mi so che serve come per farne. Oh mamma mia Vai vai Ma ci abbiamo le gomme a terra Ma come a terra? Sono quasi nuove Ci hanno sabotato le gomme, ci hanno tagliate Allora? Prendi la sedia e la portiamo con la sedia al furgone, dai La sedia tu sta La sedia è mia La sedia è mia La sedia è mia La sedia è mia Sarà la tua amica stavi a Corea Non ci provava, bello Non ci provava, bello